I giochi olimpici invernali di Sochi hanno offerto a molti tifosi l'occasione di scoprire una città che fino ad ora non aveva avuto molti turisti stranieri. Gli organizzatori dicono che quasi un terzo dei biglietti acquistati per i giochi è finito in mano a turisti non russi. Eppure, malgrado il fatto che i giochi invernali siano l'evento turistico più importante mai avuto dalla Russia negli ultimi vent'anni, almeno a leggere le cronache, il flusso di visitatori non è così massiccio, anche perché Sochi non è proprio il luogo ideale per le Olimpiadi invernali. E' una cosa un po' strana guardare delle palme e non indossare abiti caldi sotto un cielo blu. Domani invece andremo sulle montagne, saremo in mezzo alla neve. Beh sì, è davvero una cosa un po' strana. Il Comitato Olimpico Internazionale aveva riferito che il 30% dei biglietti per le competizioni era rimasto invenduto. I giochi invernali precedenti, organizzati a Vancouver in Canada, avevano a parità di arco di tempo fatto registrare il tutto esaurito. Il 97% dei biglietti era stato assorbito dal mercato. Siccome c'erano stati degli allarmi, sarei rimasto colpito se non ci fossero state misure antiterrorismo. Quelle che ci sono però non sono eccessivamente intrusive. Credo che sia una cosa normale quella di essere perquisiti quando si visitano luoghi pieni di gente, che si passino i bagagli al di sotto del metal detector. Sinceramente, rispetto a tutto quello che ci hanno raccontato in Francia, sì, i controlli di sicurezza ci sono, ma non sono così fastidiosi, a differenza di quanto ci hanno raccontato in Europa. Non ci sono certo controlli a tappeto. Non è certo la sicurezza il problema, quanto piuttosto infrastrutture non terminate un po' dappertutto, anche se qualche esperto del settore dell'intrattenimento e della ristorazione non si lamenta. A Sochi è davvero simpatico, al momento c'è gente, una bella atmosfera, sono molto contento anche perché gli affari vanno bene. E c'è anche chi come Rolf, un turista tedesco un po' speciale, è arrivato fin qui a bordo della sua Trabant, la storica utilitaria della Germania Est. A bordo di questa vettura si è recato a tutti gli appuntamenti olimpici dalla caduta del muro ad oggi e non è mancato neppure a questi giochi di Sochi.